Numero 87, 67. Numero 5, Max S. Numero 4, 4. Numero 17, Riese. Numero 16, De Rosso. Numero 33, Bride. Numero 20, Perrotto. Numero 19, Bassi. Numero 9, 12. Numero 10, 8. Numero 15, 20. Numero 24, Menem. Numero 26, Greco. Numero 13, Bassi. Numero 13, Bassi. Numero 13, Spontano. Allena 4, di Giacomo. 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 Numero 9, Tomas Frischi. Numero 2, Gennaro Sardo. Numero 8, Pablo Ledesma. Numero 9, Michele Paolucci. Numero 10, Nicolae Duita. Numero 21, Cristian Silvestri. Numero 25, Orge Martinez. Nessun allenatore è il signor Walter Zeglia. Arbitro di Zeglio. Numero 10, Nicolae Duita. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.